Senti, so che non sono fatti miei, ma mi stavo venendo qui per darnele e sono tutti amati. Lo so, grazie dell'avvertimento. Grazie a tutti. Se tu riuscissi ad osservare il Dharma con l'intensità della passione, che hai dimostrato nei miei confronti che riusciresti a diventare un Buddha in questo corpo. La città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di evitare. A noi il dovere di reprimere la repressione è il nostro vaccino, repressione è civiltà. E tu, tu, vorrei che tu fossi qui dove mi trovo io adesso e sentissi quello che sto sentendo io adesso, perché allora capiresti che c'è bisogno di una cosa al mondo, della pietà. Capiresti che il concetto di ogni società è basato sulla capacità di comprensione che possiede e sulla sua generosità e sul suo senso di giustizia. Gesù Cristo ha detto di perdonare, ma io non posso. Tu sei un porco. Siete tutti porci. Vorrei fare arrivare a tutti un messaggio. Di a tutti i figli di puttana che stanno dentro queste mura, che se gli venisse l'idea di rompermi il cazzo, non lo facciano.